C'è un momento particolare che per me ha sempre significato arrivare a casa e mi riferisco soprattutto al periodo lungo lungo periodo in cui ho abitato all'estero, però durante tutto questo periodo, soprattutto dopo la nascita di mio figlio, ho fatto di tutto per riuscire a tornare a casa in Italia, a Cagliari, almeno una volta all'anno e spesso nei molti anni che ho abitato in Australia capitava che tornassi quando qui a Cagliari era estate, a luglio o anche a settembre e lì in Australia Melbourne è pieno inverno e c'è questo momento che mi faceva sempre sentire ecco ora sono a casa, non è quando arrivavo all'aeroporto di Roma di Milano, ma quando si apriva la porta dell'aereo appena atterrato all'aeroporto di Cagliari e entrava dentro questa, scendendo le scalette per uscire dall'aereo, venivo avvolta da questa ondata di aria calda piena di salsedine perché l'aeroporto di Cagliari è praticamente attaccato a uno dei molti stagni che circonda la città, infatti per una persona che non è mai atterrata a Cagliari c'è un momento di panico perché sembra che l'aereo voglia atterrare sull'acqua allora si apre il portellone e tu sei lì sulle scale, in cima alle scale esci e vieni avvolta da questa ondata di aria calda, bella, piena di odore di salsedine, piena di tutte le cose e poi c'è attorno un sacco di vegetazione mediterranea, quindi il mirto e l'entischio non lo so che cosa tutto c'è di piantato attorno alla pista d'atterraggio dell'aeroporto di Cagliari però per me quello è sempre stato il momento in cui ecco ora sono arrivata a casa e questa cosa, questa bellissima sensazione continua anche se adesso da un bel po' abito di nuovo in pianta stabile qua, però ogni volta che mi capita di prendere l'aereo e di tornare, soprattutto in questa bellissima stagione, adesso non siamo ancora in piena estate siamo all'inizio di giugno, però c'è sempre quel momento bello che si apre la porta tu sei lì stanca dopo il viaggio, non importa quanto sia durato il volo perché comunque negli spostamenti il viaggio non è mai lungo quanto il volo ma inizia sempre prima, fai bagagli, ti muovi eccetera e c'è questo momento bellissimo che mi piace e che per me rimarrà per sempre questa sensazione di accoglienza, di riessere tornata a casa e di stare in un posto dove si vuol stare, dove si sta bene e dove c'è questo, quest'aria bella, dolce, meravigliosa oh la Sardegna è bellissima oh la Sardegna è bellissima